Il pandoro e il panettone non sono gli unici dolci ad arricchire la tavola natalizia in Italia. Infatti ci sono una miriade di dolci natalizi regionali che si preparano durante le feste. Ad esempio, io vivo a Roma e il dolce di Natale tradizionale qui è il pan giallo. Si fanno risalire le origini di questo dolce all'antica Roma, quando si preparava il giorno del solstizio d'inverno per favorire il ritorno del sole. Gli ingredienti sono il miele, la farina, le nocciole, le mandorle, i pinoli, le noci, i fichi secchi e lo zafferano per la glassa. Volendo si può aggiungere il cioccolato fondente. Trovate il vlog della ricetta sul mio canale YouTube.